Allora, ciao a tutti, innanzitutto in questo appuntamento di cinema, di recensione di cinema, voi sapete che ogni tot mi guardo un bel film la sera cercando, ravanando negli archivi di Amazon Prime, gratuitamente peraltro, e trovo delle perle che manco sapevo fossero uscite o esistessero. In questo caso sono rimasto fulgorato da questo film, infatti, magari voi l'avrete già visto, secondo me non lo conosce nessuno, e questa recensione, recensione racconto, diciamo, sempre spoiler free, quindi non avrete spoiler di alcun tipo, un film del 2013, pensate un po', lo devo, lo voglio violentemente consigliare a tutti quanti, perché è un film che merita davvero tanto, parte con delle premesse apparentemente banali, è un film che si divide a metà e adesso andremo a vederne il trailer, poi ci ristopperemo e andremo a parlarne. Intanto la logica, la sinossi, quello che avviene in questo film, di fatto il film, come vi dicevo, si divide in due parti. Nella prima parte c'è questa ragazzina americana, tardo adolescente, insomma, adolescente un po' più matura, diciamo, classica quindi, diciamo, problematica moderna, quindi introversa, apatica, sempre annoiata, sempre che, come se il mondo intero le fosse nemico, dirà una frase che sembra una scemata, ma davanti a un megadramma, lei dirà, sono io che porto sfortuna, cioè l'assurdità, ma nella sua mente tutto questo è reale, non è una cosa sciocca buttata lì, è una frase che si sente, io stesso l'ho sentita, anche a persone non più adolescenti, perché sono questo tipo di persone intrappolate dentro se stesse, che si creano regole, leggi per andare avanti, per muoversi, quasi, diciamo, depresse, che non sono in grado di leggere ciò che gli capita intorno, in un mondo come il nostro, iperfortunato, paragonato a qualsiasi altro periodo della storia, eppure, ad un certo punto, succede qualcosa, quindi, diciamo, lo dividiamo pure in tre parti, la prima parte è quella in cui lei, vedete tutto nel trailer, la prima parte in cui lei va da questi cugini, la seconda parte, poi c'è una parte in cui, come vedete, si innamora, poi capirete questo tipo di relazione e cosa succede, quindi c'è questa prima parte nella casa di questi, di questi cugini, e poi ad un certo punto, di botto, di botto, scoppia una guerra, una guerra di cui non vi parlerò, con un nemico, con una logica intelligentissima, alla Dunkirk, si parla di terrorismo, ma il nemico non è mai direttamente citato, in Dunkirk è ovvio chi sia il nemico, ma il regista non ne parla praticamente mai, non ne parla mai nel senso che è come se il nemico fosse quel qualcosa contro il quale nessuno sa neanche perché c'è, perché in realtà è una realtà tipica dei soldati di quel tempo, loro sapevano di dover combattere, nella storia, nella maggior parte dei casi è andata così, sapevano di dover combattere, ma nemmeno quasi per chi, la loro lotta era quotidiana, la loro lotta era la sopravvivenza, era il loro piccolo mondo, nel quale dovevano portare a casa la pelle, qui è ancora più intelligente, perché non si parla mai dello straniero, non si parla mai, si parla di terrorismo, ma non si parla mai dello straniero, non si parla mai del nemico fuori, non si capisce chi sia, o almeno non si capisce in una prima parte, poi non vi dirò cosa succede dopo, ed è interessante questo aspetto del nemico, e quindi in questa prima parte si affronta tutta questa logica, e nella seconda parte del film, come avete anche qua brevemente intuito, c'è il viaggio come tema, non vi dirò il perché, non vi dirò cosa succede in questo viaggio, ma c'è una sorta di mutazione nella ragazza, la ragazza tra l'altro è un'attrice bravissima, si chiama, vabbè, Suarse Ronan, non so se lo pronuncio correttamente, magari l'avete vista in Grand Budapest Hotel, sicuramente galattica in Maria Regina di Scozia, è anche presente in Piccole Donne, cioè film diciamo un po' più commerciali se vogliamo, ma sicuramente film in cui c'è bisogno di avere una caratterista, lei è molto 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 brava, e lui, George McKay, che fa appunto, diciamo che la protagonista è lei, adesso ripeto, non voglio far spoiler su quanto, però diciamo che la protagonista assoluta è lei, George McKay fa la controparte del ragazzo di cui lei si innamora, e lui, anche lui, è un attore strepitoso, se volete vederlo al top delle sue performance, dovete guardarvi 1917, film che io adoro e di cui vi parlerò, mi piace parlare di cinema, ma mi piace parlare di cinema nel momento in cui c'è effettivamente qualcosa da dire, e su 1917 c'è tantissimo da dire, quindi se ve lo volete recuperare pure quello, ma questo film, Come vivo ora, è interessante, lo stesso titolo, perché ti fa riflettere, è un titolo che apparentemente non vuol dire assolutamente nulla, ha più senso dire dove vivo ora, e invece come vivo ora, c'è una logica in tutto il film della casa, la casa che non è la pietra intorno alla quale si vive quotidianamente, ma è la casa con il classico latino focolare, il focolare domestico, quella parte in cui ci si sente al sicuro, anche se tutto intorno va in pezzi, quella casa dove uno vive, che trasforma come uno vive, questo è un po' il segreto del film, ripeto, non c'è spoiler, nel senso che questa è una mia totale deduzione, e anche non vi dirò né come tutti questi avvenimenti avvengono in una determinata concezione, c'è il tema del viaggio, ed è un viaggio che è un po' una sorta di, come posso fare il paragone, è un po' forte, probabilmente un po' troppo alto, se vogliamo, ma è come nel viaggio dantesco, ecco, a me è piaciuto molto vederlo in un'ottica del genere, perché? perché chi gira in un mondo che può essere l'Italia, l'Inghilterra, dove ne avete voglia voi, per quanta campagna ci possa essere, non siete in posti sperduti, con migliaia di chilometri quadrati di aree rurali, e anche nel momento in cui dovesse essere così, trovate la strada, trovate la via, trovate tutto, invece questo viaggio che lei compie, è un viaggio in cui è come se lei si perde, ad un certo punto si perde, ma si perde come se fosse davvero dentro a se stessa, e deve uscire, deve trovare quella che è la sua strada, la sua meta, il punto d'arrivo, e da ragazzina super problematica, che esce, piano piano emerge, forse sì, forse no, comunque, poi lo vedrete nel film, delle convinzioni nette, delle convinzioni nette di questa ragazza, che sono proprio taglienti, compie cose estreme o non estreme, ma è un viaggio intimo, veramente splendido, ed è uno di quei film che comunque ti fa riflettere, indipendentemente da come può finire, soddisfatti o non soddisfatti della fine, non vi dirò nulla come finisce, perché è assolutamente da vedere, neanche come si svolge, vi dirò nulla, però è proprio con questi concetti, che non potevo non dirveli, perché vi aiutano, vi aiutano parecchio, a leggere quella che è la trama, una trama, ripeto, apparentemente superficialmente banale, si torna ancora, non so perché mi capitano, si vede che c'è uno script dentro a Amazon Prime, che mi suggerisce soltanto i film, quelli post-apocalittici, però non è, non c'entra nulla con i classici, ripeto, zombie, il nucleare, cioè sì, c'è dentro tutto, ma come in sopravvissuti, dove si guarda un certo tipo di aspetto psicologico, dell'amore, della vita, che inquadra in un certo frangente, le vite di queste persone, cristallizzate in un'area specifica, qui non è nemmeno quello, qui è un viaggio di trasformazione interiore, ed è davvero bello, perché non ha alcuna importanza poi come finisce questo film, è nel viaggio il segreto della trasformazione, ed è anche questo film molto legato al concetto della vita, cioè la vita alla fine poco importa, la fine, nel senso che sappiamo tutti quali sarà la nostra fine, morire, punto, però è come tu hai vissuto questa vita, che darà valore alla sua fine, al suo contesto, a tutto quanto, e davvero questa attrice, secondo me, non so se ha vinto dei premi, adesso non sono andato a vedere questa cosa, ma è un livello, è un livello veramente altissimo, e stiamo parlando tra l'altro di ragazzi che hanno i due protagonisti, insomma, classice e tutto, stiamo parlando di ragazzi ventenni o poco più, nel senso che proprio se erano poco più di ventenni, ma li sfioravano, e sono davvero incredibilmente bravi, ecco, l'unica nota, l'unica nota che mi permetto di fare, due note in realtà, mi permetto di farle, la prima è una scemata, non c'entra nulla, questo film può essere reale, realistico, non me ne frega nulla, però in questo trailer, quindi lo dico perché c'è questa cosa, no, non lo dirò neanche perché c'è una scena del trailer, di cui magari vi parlerò senza spoiler, in un'altra puntata, perché probabilmente potrei far spoiler se lo dico, quindi non dirò il perché c'è, un grossolano errore, all'interno del film, quando voi vedete, diciamo, vi dico in quale scena c'è un grossolanissimo errore, e cioè, qua c'è proprio un errore fisico, che non potrà mai essere, in questo pezzettino che avete visto, che avete visto qua, di questo, questo, di questo pezzetto, una cosa che nella realtà non potrebbe mai succedere, se dovesse succedere, ci sarebbero delle conseguenze, che sicuramente andrebbero in una direzione completamente diversa, nella realtà, quindi ecco, questo è un po' quello che volevo dirvi, una cosa che non mi è piaciuto, più che altro perché non aveva proprio senso, ma va bene nella spettacolarizzazione della scena, ce la mettiamo, ce la mettiamo dentro, e la seconda cosa che proprio non mi è piaciuta, è il doppiaggio, io non so, non voglio giudicare i doppiatori, io credo, e sono fortemente, adoro il cinema doppiato in italiano, perché noi abbiamo i doppiatori migliori del mondo, e non è la frase buttata lì, noi abbiamo dei doppiatori bravissimi, davvero bravissimi, ma in questo film hanno scelto dei doppiatori totalmente inadeguati, spesso inespressivi, tantissime volte sembravano proprio delle voci distantissime, al di là del timbro di voce, che magari può anche assomigliare all'attore originale, non me ne frega nulla, ma davvero brutte, cioè voci davvero terribili, e quindi non so se il motivo è perché è stato considerato un film minore, ha avuto minore qualità, non lo so, però resta il fatto che il doppiaggio qui è davvero da buttare via, e mi dispiace perché dire questa cosa in un film doppiato in italiano, credo che recentemente, almeno credo che mi sia capitato davvero pochissime volte. spero di avervi dato qualche dritta per andarvi a recuperare questo film, gratis su Amazon Prime, ripeto non faccio promozione ad Amazon Prime, però ripeto avendolo, mi piace a volte tirar fuori qualche titolo, che magari io non ho mai visto, e ce ne sono davvero tanti di interessanti, e mi piace parlarne. Grazie a tutti, buona serata, alla prossima, ciao!